Martedì 3 agosto, Santa Lidia. È il 215esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 150 al termine. Il sole sorge alle 5.57, tramonta alle 20.36. La luna sorge alle 1.24, tramonta alle 16.58. Davanti alle mura di Padova, assediata dagli spagnoli, si presenta il capitano Gerolamo da Valenza, che si dichiara pronto a sfidare ad uno ad uno i difensori della città. L'arsenalotto Damiano Colliva esce da Porta Santa Croce, armato solo di spada e scudo, e dopo mezz'ora di accanito combattimento stende a terra lo spagnolo con due fendenti alla testa. Il Senato Veneto premierà il valoroso operaio dell'arsenale, aumentandogli la paga di 6 soldi al giorno. Le previsioni per domani, cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso, salvo temporane e parziali schiarite, soprattutto in pianura e nella prima parte della giornata. Precipitazioni, probabilità in aumento fino ad alta sulle zone montane, dove i fenomeni saranno diffusi e persistenti. Medio-bassa su quelle pedemontane e bassa sul resto della pianura, soprattutto della serata di precipitazioni da locali a sparse. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni o il leggero aumento nei valori minimi e il locale flessione nelle massime. Trevati A Grazie a tutti.